sono luana e vi leggerò il brano ho incontrato una bambina era vestita con ciò che una volta dovevano essere una maglietta e un paio di pantaloncini era una bimba che viveva in una capanna col tetto di paglia il pavimento di terra battuta il muro di fango un letto in sei la legna in un angolo per cucinare viveva con una mamma che non riusciva a sfamare i propri cinque figli perché il marito l'aveva abbandonata perché il marito forse eppure morto perché la vita è così ora da domani toglie ho parlato di questa bambina un'amica lei ha visto che possiamo cambiare le cose e mi ha detto sì la mamma era felice ora quella bimba mangia tutti i giorni il pranzo a scuola la colazione e la cena nella sua nuova casa a un letto una compagna a distanza con cui condividere ciò che le abbiamo regalato la voglia di giocare di ridere di imparare un domani non oggi oggi non le possiamo chiedere di studiare è tutto nuovo la cartella i quaderni l'astuccio la divisa scolastica l'insegnante che parla due lingue una più sconosciuta dell'altra lo swahili e l'inglese e lei guarda ogni cosa il banco le piccole seggiole di plastica la lavagna quei compagni che sanno già tutto e sorride oggi no non ti chiediamo di studiare oggi ti prego guarda i colori annusa gli odori ascolta e cerca di ricordare anche quando sarai grande che la felicità è fatta di piccole cose che la felicità è condivisione sono fernanda e vi leggo il racconto ovunque popote stamattina sono stato in un villaggio masai a consegnare alla mamma di una bimba sostenuta i soldi per il viaggio di rientro alla scuola di mosci tornando indietro mi sono fermato a salutare alcuni amici che stavano insaccando il mais per portarlo al sicuro all'interno delle proprie capanne mentre ero lì circondato come al solito dai bambini sono stato testimone di un episodio che mi ha lasciato l'amaro in bocca un masai alterato di prima mattina dai fumi dell'alcol ha aggredito la moglie che teneva in grembo il figlio di un anno con il proprio bastone per fortuna è stato subito fermato la colpa della donna è stata quella di aver detto agli altri membri della comunità che il marito vuole vendere il grano ovvero il frutto del suo lavoro la comunità ha deciso che quest'anno nemmeno un chicco di mais sarà venduto tantomeno per soddisfare i ben noti vizi dell'uomo le donne nella comunità masai hanno poca voce in capitolo per quel che riguarda proprietà e denaro poi come dappertutto e per fortuna c'è il buon senso che non ha colore sesso razza o età il buon senso su tutto la donna era sull'uscio della capanna e stava piangendo mi sono avvicinato a lei e le ho fatto una carezza col dorso della mano per cancellare quelle lacrime portami via mi ha detto non posso le ho risposto e poi dove vuoi andare popote popote significa ovunque io non posso intervenire lo so io lo sanno gli uomini e anche le donne è una regola che ci siamo dati senza mai parlarne l'unica cosa che posso fare è parlare prima di andarmene ho detto ai miei amici di trovare una soluzione per lei perché questa notte sia il sicuro risalendo in moto ho sentito il dorso della mia mano bruciare erano quelle lacrime era quel popote giusi aspettami amore mio la macchina arriva alle otto e parcheggia nello slarbo davanti casa lei apre la porta e scende lui aspetta qualche secondo e mentre lei ha già infilato la stradina la segue lei ha il viso stanco di chi ha lavorato tutta la notte e un vestito lungo tipo quelli indiani ma che qui arrivano dalla cina e si comprano pochi soldi lui indossa la sua elegante divisa color kaki con il logo della compagnia di safari cucito sul taschino della camicia la grande macchina da safari parcheggiata davanti casa e lasciata col motore acceso sembra un carro armato conosco lei solo di vista abitava chisuto l'anno scorso poi è rimasta incinta e il compagno dopo qualche mese l'ha lasciata l'ho rivista davanti alla stazione di polizia mi hanno detto che era andata a chiedere gli alimenti per la figlia appena nata moglie e marito sono andati di fronte al giudice il primo mese il ragazzo ha pagato gli alimenti poi ha fatto i bagagli ed è sparito dal paese per far perdere le proprie tracce ora si è trasferita nel nostro quartiere e vive con la figlia in una delle piccole case popolari oltre il canale di scolo che divide nazi moja da maji moto a differenza di molte altre donne di questo villaggio è alta e slanciata e il suo passo a un incedere diverso da quello delle altre donne africane è un passo da grandonna una grandonna che per tornare a casa si deve togliere le scarpe e camminare scalza nel pantano perché la stradina laggiù è sempre piena d'acqua salta da un lato all'altro come farebbe una ragazzina per evitare le pozzanghere lui la segue è molto più alto di lei e non deve saltare gli basta allungare un po il passo lei è di costituzione e magra gli ricorda una donna bianca dei film americani a lui diversamente dalla maggior parte dei suoi colleghi di lavoro non piacciono le donne grasse per questo si ferma sempre qui e viene a cercarla alla brina dove già alle 10 è seduta al banco del bar ad aspettare i suoi clienti la paga bene perché vorrebbe fosse solo per lui ma i soldi non le bastano mai e lei non sa fare nient'altro il mestiere gliel'ha insegnato a sua sorella i soldi sono facili e con lo stomaco pieno di birra tutto è più semplice in questo paese di campagna sulle sponde del lago maniara meta di milioni di turisti ogni anno le guide turistiche e gli autisti delle macchine da safari mantengono moltissime di queste ragazze spargendo l'hiv lungo tutto il loro itinerario abituale lo stipendio di un autista è alto a questo si aggiungono le mance dei turisti e la percentuale che prendono da ogni negoziante bar ristorante orfanatrofio presso il quale non a caso fermano le loro macchine i titolari delle agenzie africane lo sanno le hanno fatte anche loro queste cose prima di mettersi in proprio ma per loro è importante che i turisti siano soddisfatti che la guida parli bene l'inglese il tedesco lo spagnolo o il francese mentre lei girando l'angolo sparisce dietro la casa di mamampunga penso che un giorno vorrei colto da un improbabile attacco di moralismo trovare il coraggio di fermarla per chiederle perché vorrei perché me lo suggerisce la mia piccola coscienza occidentale che con la sua vocina continua a ripetermi che la dignità di una persona viene prima di ogni altra cosa e che la vita è ciò che sceglie ogni giorno gira l'angolo anche lui subiri mpendo guangu aspettami amore mio le urla e lei subito si ferma perché è lui che paga ed è lui che comanda sono marisa con questa ultima lettura che farò io chiudiamo l'antologia di brani scelti dal libro il rinoceronte e la giraffa libro di nicola maguolo ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato tutti coloro che hanno contribuito in un modo o nell'altro attraverso le immagini attraverso gli stessi racconti a conoscere nicola maguolo e speriamo di sviluppare tutti la grande sensibilità che questo italiano ha nei confronti del popolo africano in particolare del popolo dei maasai rinoceronte o giraffa chi è il rinoceronte chi è la giraffa il nostro cervello spesso procede per approssimazioni che funzionano anche come stimoli e spunti di riflessione la maggior parte dei ragionamenti che facciamo partono proprio per questo motivo da presupposti imprecisi dire che il popolo africano quello di cui si parla in queste pagine è come la giraffa e che noi occidentali siamo dei rinoceronti è una semplificazione siamo tutti coscienti del fatto che la realtà è molto più complessa densa di contenuti sui quali per esigenza di sintesi spesso dobbiamo glissare parlare del rinoceronte della giraffa è stato solo un pretesto che vi ha accompagnato fin qui attraverso le storie di vita vissute in questi anni in Tanzania le mie storie la mia vita il mio modo di vedere le cose e leggere i fatti stando tra la gente vivendo come loro condividendo lo stesso piatto di riso e bevendo della stessa tazza il latte appena munto e sono consapevole del fatto che ci sono cose che non arrivano attraverso le pagine di un libro parole che non passano colori odori suoni impressioni che a volte non riesco a trasmettere vorrei potervi portare con me in una di quelle cento capanne in cui all'interno c'è solo lo spazio per una pentola e due giacigli per dormire o nelle casette minuscole fatte di mattoni di terracotta il sole con finestre talmente piccole che fanno entrare uno spiraglio appena sufficiente per dar luce a un letto o a una poltrona sopravvissuti a chissà quanti traslochi e inondazioni con le gambe mangiate dai tarli e dall'acqua di quello straccio sempre uguale che le donne usano per pulire per terra donne chine in una posizione naturale senza inginocchiarsi ma piegati in avanti e allargando le braccia in un esercizio che da noi si fa solo in palestra ed è un pavimento fatto di terra che col passare degli anni a forza di pulire si abbassa di parecchi centimetri vorrei che vi arrivassero i riflessi di quella penombra quella in cui le madri dei nostri bambini guardano con noi la pagella dei loro figli vorrei che vi arrivasse l'odore della polenta cucinata su tre sassi giusto davanti alla soglia di casa l'odore di buono e di pulito nonostante nulla nonostante la semplicità non potete immaginare quanto umiltà ci sia in quelle piccole case in cui non c'è l'acqua né elettricità in cui l'unica musica che si sente è quella dei canti degli uccellini al mattino e i loro sguardi il calore di una lingua semplice quella che parla dell'amore per i propri figli e della preoccupazione per un futuro che ai nostri occhi per molti di loro non c'è ma è un futuro che cambia e può poco alla volta invertire i ruoli trasformando la giraffa in rinoceronte e viceversa o entrambi in un animale fantastico che ancora non c'è ecco allora che in tutto questo a dirivieni noi esseri umani siamo poco nulla siamo una briciola caduta dalla tavola meno di una goccia perduta nei mari e negli oceani di questa terra e siamo proprio buffi quando ci arrabbiamo quando pensiamo di aver trovato la soluzione la formula che ci restituirà la felicità lo star bene che abbiamo tanto atteso siamo proprio bianchi dalla punta dei capelli alle unghie dei piedi bianchi e senza scampo abbiamo molto da imparare non solo dal popolo africano ma più in generale dagli ultimi perché troppo spesso dimentichiamo che è dal nulla al nulla che stiamo andando vorrei riuscire a trasmettere anche questo concetto quando liberati dai tanti fartelli e orpelli occidentali sapremo finalmente andare leggeri e senza troppi pensieri liberi come le giraffe e i rinoceronti in un mondo migliore di quello che abbiamo trovato grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.